Secondo quanto comunicato da Arpa Piemonte, il progressivo rafforzamento di un promontorio di alta pressione di matrice africana manterrà condizioni stabili e soleggiate sul territorio regionale fino a martedì, ad eccezione di isolati rovesci di calore in possibile formazione a ridosso delle Alpi. L'afflusso di aria calda determinerà un aumento delle temperature, con valori al di sopra della media del periodo, e la moderata umidità associata ad una... Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.